Segretario, emergenza sanitaria prosegue, molte aziende anche alla luce della nuova ordinanza hanno chiuso nella nostra regione però ci sono problemi e anche polemiche. Certamente, è vero che molte aziende hanno chiuso, hanno sospeso la produzione, gli imprenditori hanno capito che in questa fase è necessario produrre soltanto ciò che è essenziale per la vita e per i bisogni dei cittadini. Ci sono alcune aziende che invece insistono nel voler mantenere aperta la produzione con gli stessi ritmi di sempre mettendo a rischio la salute dei lavoratori e questo è inaccettabile. Su queste aziende abbiamo indetto e stiamo indicendo azioni di sciopero. Domani avremo il primo tavolo in videoconferenza con l'assessore al lavoro Fioretti perché dovremo mettere in piedi l'accordo regionale per dare gli ammortizzatori a tutte le persone che in questo momento hanno sospeso la loro attività lavorativa. Il nostro obiettivo è di coprire tutti i lavoratori sia con gli strumenti ordinari che hanno avuto da decreto nazionale delle deroghe, mi riferisco alla cassa integrazione guadagni ordinari, al fondo di integrazione salariale, ma poi con la cassa integrazione in deroga dovremo coprire tutte quelle situazioni che normalmente non sono coperte dagli ammortizzatori. È importante coprire tutti i lavoratori che hanno perso in questo momento temporaneamente per fortuna la loro attività lavorativa. Dall'altra parte c'è un tema importantissimo che è quello che i soldi degli ammortizzatori sociali, il pagamento degli ammortizzatori sociali avvenga nei tempi dovuti ai lavoratori. Siamo preoccupati che con il pagamento diretto dell'Inps ci possano essere dei ritardi. Ecco su questo dobbiamo lavorare sulla regione, con la regione e con gli istituti bancari affinché i lavoratori possano avere certezza del pagamento degli ammortizzatori sociali. C'è tanta preoccupazione per il futuro, c'è preoccupazione per tutti quei settori che oggi già stanno perdendo introide e ovviamente dove non ci sarà lavoro. Pensiamo soltanto al settore, per fare un esempio, del turismo o al settore della distribuzione che non è aperta perché non dà servizi essenziali, la ristorazione e così via. Dall'altro lato quindi sicuramente ci sarà una perdita importante di risorse. Il punto oggi diventa, come ci dicono anche le norme nazionali e regionali, che oggi la priorità è quella del distanziamento sociale, di non far proseguire questo contagio per poter ripartire prima e cerchiamo di ripartire il meglio possibile. C'è anche la problematica, segretario, che riguarda alcuni lavoratori che sono risultati positivi al Covid-19, lavoratori poi da seguire nel corso delle settimane e dei giorni. Sì, ovviamente quando si trovano dei lavoratori positivi al Covid-19 è necessario innanzitutto che le ASL mettano immediatamente in funzione tutta la procedura per stracciare, per avvertire tutte le persone, gli altri lavoratori oltre che i familiari e tutti i contatti che queste persone trovate positive hanno avuto. Questa cosa devono fare le ASL e le aziende. È importantissimo per evitare che si possa sospendere la catena di trasmissione del virus e ci risulta che questo non sempre viene fatto con le dovute attenzioni.